ciao a tutti quali sono i gesti di un uomo coinvolto beh se un uomo coinvolto intanto ti bacia spesso il bacio è un sinonimo di coinvolgimento è un sinonimo di intimità fondamentalmente molto più della sessualità se ti scopa non è detto che sia coinvolto se ti bacia è probabile che lo sia poi ti guarda spesso e ti ascolta volentieri insomma poi ci sono gesti altri gesti di affetto ad esempio ti accarezza ti abbraccia e ride con te fondamentalmente è in sintonia duplica un po i tuoi gesti cerca spesso di starti vicino cerca il contatto fisico da segnali di gradimento quando ti vede mette in atto delle aperture cerca di essere diciamo coinvolto da un punto di vista anche logico e razionale che significa che ti ascolta che sente quello che tu dici cerca di essere in qualche modo vicino anche da un punto di vista intellettuale cioè si interessa a quello che tu fai si interessa a quello che tu dici e questo è veramente diciamo un sinonimo di coinvolgimento ed è significativamente curioso e interessato di quello che tu fai e di quello che tu pensi quindi ci sono diversi livelli di coinvolgimento questi gesti questi questo modo di fare che ho accennato adesso indica un alto livello di coinvolgimento bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda la domanda va postata nei commenti e riceverai un video di risposta se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici ciao